Schick, le freak, il nostro Crystal History delle 8, sono le 8.07 nel frattempo, qui venerdì 26 aprile, Crystal Radio Good Morning Milano 96.2 FM, vi ricordo sempre, Dub Plus sulla vostra autoradio ovunque voi siate in Lombardia, ci potete sentire, se invece uscite dalla regione non c'è problema, c'è la app per iOS e Android e anche il sito internet, Crystal Radio.it. Già che sto facendo tutte le coordinate, vi ricordo goodmorning.milano.it invece per riascoltare tutto quello che succede qui ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9. Sono le 8.07 come vi dicevo, quindi seconda parte di trasmissione, lo sapete, ci sono gli ospiti e quest'oggi abbiamo Giovanni Mollise, segretario della Funzione Pubblica CGL Milano, buongiorno segretario. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Giovanni. Allora, abbiamo già parlato a volte di Funzione Pubblica, perché spesso parliamo appunto delle cose che avvengono nell'amministrazione, nella cosa pubblica, come si dice in questo caso. Poi sentiamo spesso voi del sindacato che ci spiegate un po' anche perché insomma ogni tanto ci sono delle vertenze, c'è qualcuno che insomma è un po' scontento e chiede giustamente maggiori diritti. Ricordiamo un po' però bene cos'è la Funzione Pubblica, cioè la CGL Funzione Pubblica, di cosa si occupa? La Funzione Pubblica è tutto quello che appunto viene gestito dal pubblico, quindi per dire l'Inps, la sanità, gli enti locali, tutto ciò che il tribunale, tutto ciò che è gestito dal pubblico viene seguito da noi come Funzione Pubblica della CGL. Quindi è una categoria della CGL che segue tutte le lavoratrici e lavoratori che lavorano attraverso il pubblico. Tutti occupano di Comune di Milano e quindi tutte le funzioni pubbliche rendono nel Comune di Milano. All'interno del Comune di Milano. Quindi tutti gli uffici del Comune di Milano, cioè pensate un ufficio, ecco c'è di mezzo... Il Comune di Milano ha 13.200 dipendenti circa e sono quasi 500 sedi sparse su tutto il territorio. Ci sono tecnici, amministrativi, servizi sociali, servizi funebri, anagrafe, stato civile, leve, elettorale. Dalla nascita alla morte, più la polizia locale, eccetera, noi ci occupiamo ovviamente del cittadino e delle cittadine. Ecco, e ci sono più di 3.000 appunto gli iscritti al vostro sindacato solo nel... Sono circa 3.000. Circa 3.000 appunto nella funzione pubblica del Comune di Milano. Di questi 13.000 dipendenti, pensate che macchina micidiale mastodontica è. Se fosse un'azienda sarebbe la più grande della Lombardia. Ecco, giusto per capire, no? Mi piace sempre questo gioco del se fosse, perché lo spesso lo facciamo anche con il Municipio 2. Se fosse un comune a parte sarebbe il secondo comune di Lombardia. Quindi pensate davvero cosa non è Milano. Un altro tema è quello dei municipi, nel senso che i municipi sono inseriti all'interno di questi 13.200 dipendenti che dicevo io. Ecco, quindi chiunque lavora appunto per il Comune di Milano può essere rappresentato dal vostro sindacato. Tranne, faccio questa premessa per farlo capire meglio, tranne ovviamente gli eletti, cioè quelli consiglieri comunali, il sindaco. La parte politica invece ovviamente sono fatti loro, giustamente. Sì, la parte politica è stata eletta direttamente dalle cittadine e i cittadini e quindi si autogestisce naturalmente. Si autogestisce, magari solo il sindacato del sindaco di Milano e dei consiglieri. No, no, giustamente, no, una battuta. Comunque, sono tante le questioni aperte sul tavolo che hanno a che fare a Milano con i lavoratori del Comune di Milano, giusto? Facci un indice e poi dopo entriamo nel dettaglio delle varie situazioni. Ma in questo momento noi abbiamo diverse vertenze aperte, una con la polizia locale, una per quanto riguarda lo Stato civile, la NAGRAF, insomma, la direzione dei servizi civici e municipi in generale. Abbiamo una vertenza aperta per i musei, abbiamo una vertenza aperta, diciamo, in generale sul ticket, nel senso sul diritto al pasto, lo chiamiamo noi. E una vertenza aperta in generale su tutto il Comune per le politiche occupazionali. Allora, questi sono i temi che adesso andiamo a sviscerare uno ad uno insieme a Giovanni Molisse qui in diretta su questa radio, ma prima, ovviamente, siamo una radio Giovanni, quindi prima un po' di musica con Jennifer Lopez e Maluma con Marry Me. E questo era Jennifer Lopez con Maluma Marry Me. Alle 8 e 13 minuti stiamo parlando di lavoro, parliamo di sindacato, parliamo di funzione pubblica insieme a Giovanni Molisse, appunto, della funzione pubblica CGL di Milano. Abbiamo sentito un po' l'indice delle varie vertenze aperte e delle questioni aperte. Una questione si arriva sempre all'avvertenza. Ci sono delle vertenze quando si inizia la discussione, poi quando si chiude dice abbiamo chiuso la vertenza, abbiamo portato a casa il risultato. Si portano a casa, per fortuna sappiamo di tante vertenze che si portano a casa, alcune appunto sono aperte in questo momento e si cerca di lavorare. Una delle più importanti, o meglio, delle più giornalisticamente seguite è quella sulla polizia locale. Cosa sta succedendo? Allora, succede questo, che l'amministrazione vuole aumentare le pattuglie serali e notturne in un numero importante, quindi vuole triplicare le pattuglie serali e notturne per avere più polizia locale in giro per la città. Noi come CGL diciamo che siamo d'accordo, siamo d'accordo con l'amministrazione. È necessario avere più pattuglie sia di serale che di notturno. L'unica cosa su cui non siamo d'accordo è il metodo con cui l'amministrazione vuole averle. Cioè noi crediamo che sia giusto dare un servizio ancora migliore alle cittadine e ai cittadini milanesi, con più pattuglie sul territorio, anche perché è una sicurezza anche per i colleghi stessi. Avere una pattuglia in ausilio in più in caso di problemi è meglio anche per loro. Quindi anche dal punto di vista della sicurezza delle lavoratrici e lavoratori per noi è una cosa importante. Il problema è che l'amministrazione vorrebbe farlo cambiando i coefficienti. Cioè all'inizio aveva fatto questo tipo di discorso dicendo Facciamo in modo che le persone, anche se hanno un'età più avanzata, possano andare in strada lo stesso. Ma noi proprio per ragioni di salute e sicurezza sia del lavoratore che del cittadino crediamo che ad una certa età non è più il caso di far fare le notti alle lavoratrici e ai lavoratori perché poi non è fare una notte stando tranquilli. Potrebbe andare tutto bene come potrebbe esserci bisogno di intervenire. E se non si ha la lucidità dovuta anche all'età, diciamoci la verità, e anche la capacità di rincorrere in alcune situazioni, eccetera, si hanno dei problemi. Qui però il cittadino comune, il milanese medio, dice però non è che possiamo riempirci gli uffici di polizia locale. Non è che questi qui... Non me ne vogliono chi mi inizia ascoltando in questo momento della polizia locale, ma il sentiment spesso è quello di dire questi qui si fanno 5-6 anni in strada e poi basta. arrivano al limite d'età e non vanno in ufficio, insomma gli uffici per iligente e le strade vuote. Invece non è così perché noi stiamo facendo, l'amministrazione sta facendo sulla polizia locale un grosso investimento di assunzioni. Quindi ci sono tante lavoratrici e lavoratori giovani che stanno entrando all'interno del comune di Milano. I coefficienti non significa uscire dalla strada dopo 5-6 anni, non significa ne uscire neanche dopo 15 anni, significa che sostanzialmente, per esempio, per i turni notturni, significa che una lavoratrice o lavoratore che ha 45-50 anni a un certo punto esce dal turno notturno, ma perché non riesce più a farlo a quell'età. Esce dal turno notturno, non esce dalla strada. No, durante il giorno continuo a fare le pattuglie, assolutamente, con i coefficienti che ci sono adesso. Noi su questo abbiamo fatto un'avvertenza e abbiamo portato l'amministrazione in tribunale perché noi crediamo che sia oggetto di contrattazione e non di confronto. Cioè significa che bisogna arrivare ad un accordo finale con noi per definirne i termini. Abbiamo però, devo dire, fatto un primo passo importante. Ve lo dico a voi che è successo proprio l'altro ieri sera, quindi siete i primi che lo sapete. Abbiamo firmato alle ore 21 di sera, dopo 8 ore di trattativa, una prima intesa con l'amministrazione che inizia ad andare nella direzione che noi volevamo. Cioè noi abbiamo presentato una piattaforma che significa quello che noi vogliamo fare, significa piattaforma, e l'amministrazione ci ha iniziato a concedere alcune cose che noi abbiamo chiesto. Quindi come CGL abbiamo firmato una prima intesa. Quindi diciamo il percorso in maniera virtuoso è cominciato. È cominciato. Siamo dicendo che le avvertenze con la polizia locale sono sempre state molto lunghe, anche nella storia. Sì, delle volte durano anche degli anni. Noi siamo in vertenza da diversi mesi, però credo di poter affermare che questa, diciamo dopo 8 ore di trattativa, questa prima intesa che abbiamo firmato l'altro ieri sera, è davvero un primo passo importante a favore delle lavoratrici e lavoratori del Comune di Milano, ma direi anche delle cittadine e cittadini, perché stiamo andando nella direzione giusta, secondo me, se il Comune continuerà ad ascoltarci, per poter risolvere la situazione. E' da avere più pattuglie in strada, ma con un modo diverso. E quindi abbiamo capito che insomma, quello che spesso leggiamo sui giornali non è proprio correttissimo, anche dal punto di vista del, diciamo, non vanno in strada, è un po' diverso. Non è che arrivato ad un'età uno non va più in strada. Non è vero. Attualmente ci sono dei coefficienti, attualmente le lavoratrici e i lavoratori non escono in pattuglie notturne solo se hanno una certa età, tanti anni di anzianità di lavoro, ma non significa che le stesse non escano magari la mattina, per dire. Chiarissimo. Anche banalizzando, anche quando si va alle scuole, il servizio scuole, banalizzando. Il servizio scuole, il servizio... Qualsiasi tipo di servizio. Le partite qua a San Siro durante il giorno. Qualsiasi tipo di servizio. Ne vediamo tanti, ne vediamo tanti. Andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo perché ci sono altri temi molto interessanti. Diritto al pasto e politiche occupazionali. Cosa sono? Ve lo dico dopo Rose Villain, dopo aver ascoltato Click Boom. Click Boom, Rose Villain, alle 8 e 23 minuti, sempre qui su Crystal Radio. pochi minuti prima della pausa pubblicitaria per raccontare anche un po' quello che sta succedendo invece con i servizi civici e i suoi municipi. Perché anche lì avete delle vertenze aperte. Sì, abbiamo una vertenza aperta anche lì perché abbiamo sostanzialmente una carenza di personale veramente drammatica che sta facendo in modo che molti servizi sono ritardati. Ad esempio a Milano per avere una carta d'identità elettronica bisogna attendere circa 70 giorni. ci sono problemi da un punto di vista anche dello Stato civile. Ci sono problemi ai messi civici. Tieni conto che ai messi ci sono 35.000 PEC da aprire di tutti i comuni dell'Interland il che significa che abbiamo un arretrato di due anni e mezzo di PEC di PEC non di mail normali da aprire e le lavoratrici e lavoratori quelle pochissime che ormai sono rimaste devono fare una scrematura di quelle che sono le più urgenti e importanti perché altrimenti non si riuscirebbe a dare corso neanche a queste. Quindi per dire all'interno dei servizi cimiteriali in alcuni cimiteri piccoli non si possono fare funerale al pomeriggio perché non c'è il personale. All'interno dei municipi ci sono situazioni in cui le lavatrici e i lavoratori devono lavorare in straordinario per poter consentire di fare i consigli di municipio altrimenti non si potrebbero fare neanche i consigli di municipio. Cioè è qualcosa che noi chiediamo assolutamente personale in questo settore perché tra l'altro è il settore che davvero è la carta d'identità del comune di Milano i servizi al cittadino. Se riesci mi riesci invece a raccontare del diritto al pasto abbastanza velocemente perché poi c'è la pubblicità che va se riusciamo prima della pubblicità poi troppo torniamo a parlare degli altri temi come le politiche occupazionali però il diritto al pasto perché mi ha colpito in realtà un po' questa storia com'è che è? Praticamente noi abbiamo chiesto di avere un ticket elettronico cumulabile cioè spendibile in tutta la grande distribuzione come ce l'hanno tutti in realtà ticket restante quelli lì esatto in realtà è stata fatta una gara d'appalto e ci hanno messo pure nove mesi per farla per far sì che alla fine dal primo di maggio cioè fra pochissimi giorni ci verrà dato a tutte le lavoratrici e lavoratori un ticket elettronico da spendere in giornata il che significa che se non lo si spende quel ticket elettronico non vale più al termine della giornata questo fa risparmiare al comune circa 7 milioni di euro e noi invece vogliamo il ticket elettronico cumulabile è stato scritto nella gara d'appalto e tramite una cosa che abbiamo strappato noi in prefettura abbiamo strappato un accordo che entro un anno diciamo da quando si partiva quindi entro un anno dal primo di maggio 2024 cioè 2025 ci sarà il ticket elettronico cumulabile noi in ogni caso siccome ci hanno messo nove mesi a fare una gara vorremmo anticipare anche quest'anno perché il tempo che ha perso il comune per fare una gara non lo devono pagare le lavoratrici e i lavoratori in più questo questo buono che avete perché non mi verrebbe chiamarlo ticket questo buono pasto che avete lo potete usare solo per i pasti ma non se mi avanza quel giorno lì e vado a casa la sera lo fuso nei ristoranti quello si può fare nei supermercati nei supermercati no nei supermercati no ci saranno 900 posti convenzionati che sono magari possono essere ristoranti o piccoli bar o piccoli negozietti che si possono convenzionare ma la grande distribuzione è esclusa è esclusa e quindi insomma non si capisce perché il privato può farlo con alcuni suoi dipendenti invece perché voi no quindi giustamente l'avvertenza ha un senso mi piace appunto raccontarvi un po' questa storia ma poi adesso un po' di musica ma poi torniamo ancora qui perché invece un altro tema molto importante è quella delle politiche occupazionali cioè quanto è difficile vivere e lavorare a Milano lo sappiamo tutti lo sanno anche appunto i dipendenti della funzione pubblica del comune di Milano D'Argent Amico onda alta 8 e 35 minuti venerdì 26 aprile ancora qui che insieme a Giovanni Molisse della segretaria di funzione pubblica CGL Milano per parlare appunto di vertenze con il comune di Milano e di lavoratori del comune di Milano c'è una vertenza aperta sulle politiche occupazionali nel senso che nel senso che il problema è questo che noi nel giro di pochissimi anni abbiamo perso oltre mille lavoratrici e lavoratori nel senso che siamo scesi solo 4-5 anni fa eravamo 14.500 lavoratrici e lavoratori 7-8 anni fa eravamo 15.000 adesso siamo scesi a 13.000 quindi non perché ci sia meno lavoro da fare no anzi sono aumentati i carichi di lavoro il problema è che le persone che vengono assunte dal comune di Milano sono molto meno rispetto a quelle che vanno via tra pensionamenti infatti pensionamento ma non solo mi dicevi non solo perché vanno via ovviamente per pensionamenti giustamente e poi ci sono è sempre più alto il numero di lavoratrici e lavoratori che fanno pochissimi mesi al comune di Milano si rendono conto che non riescono più a vivere al comune di Milano perché il costo della vita a Milano è difficile è alto in sostanza e soprattutto il costo dell'abitare e di conseguenza abbiamo anche dei casi di persone che si licenziano non sono tantissimi però ci sono anche questi che si licenziano perché nonostante hanno vinto un concorso non riescono a vivere ecco bravissimo hai detto quello nonostante hanno vinto un concorso perché non è che è così semplice arrivare a lavorare al comune di Milano si arriva tramite concorso si vince il concorso si viene assunti e qualcuno i parenti fanno festa e dicono vai finalmente vai a lavorare il posto fisso il posto fisso il lavoro pubblico così e poi invece scopri che è un dramma nel comune di Milano qualcuno fa veramente fatica ad arrivare a fine mese anche perché gli stipendi degli enti locali quindi anche del comune di Milano sono più bassi in assoluto di tutta anche la funzione pubblica ecco questa cosa mi ha colpito nel senso che allora lavorare nella funzione pubblica non si diventa ricchi va bene questo lo sapevamo ma i lavoratori del comune i lavoratori degli enti locali quindi anche del comune di Milano sono quelli meno pagati di tutta la funzione pubblica cioè sostanzialmente noi infatti continuiamo a fare rivendicazione anche a livello nazionale perché aumentino i salari cioè parliamo di un netto più o meno di ma un operatore esperto che sarebbe un amministrativo prende sui 1400 euro netti al mese insomma che a chi sappiamo essere quasi niente a Milano al comune di Milano diventa difficile abitarci poi lo so benissimo che mi temi ma mia cucina c'è chi guadagna anche di meno ci sono per esempio le lavoratrici e i lavoratori che lavorano nelle cooperative che guadagnano anche di meno questo però non è che adesso lo dico brutto non dobbiamo andare a ripasso dobbiamo aumentare gli stipendi anche di queste lavoratrici e lavoratori infatti anche loro e questo insomma fa un po' capire poi in che condizioni uno magari lavora noi sottovalutiamo sempre secondo me l'aspetto del benessere sull'imposto di lavoro che non è solo avere l'asilo come fanno certe aziende avere tutto il welfare possibile che serve ma soprattutto farmi andare al lavoro un po' più sereno perché se io mi porto al lavoro il benessere è dovuto al salario e alle condizioni di lavoro se io ho delle condizioni di lavoro gravose perché praticamente un lavoro che prima si faceva in quattro lo facciamo in tre perché ovviamente se si scende di personale il comune non riesce neanche a garantire il turnover quello che prima si faceva in tre in quattro adesso lo si fa in tre quindi ho condizioni gravose carichi di lavoro maggiori maggiori responsabilità stress da lavoro correlato in più a fine mese prendo 1400 euro quando mi va bene e chiaramente diciamo che non si è soddisfatti ecco mettiamola giù così eravamo quattro amici al bar iniziava la canzone poi finiva con sono rimasto solo io al bar secondo me se non si dà una controtendenza è per quello che abbiamo aperto una vertenza importante devo dire unitaria con tutte le organizzazioni sindacali non solo con la CGL insieme a tutte le organizzazioni sindacali all'RSU una vertenza unitaria perché vogliamo assolutamente una controtendenza assunzioni piano straordinario delle assunzioni cioè assumere più personale di quello che va via questa cosa della vertenza unitaria è importante perché altre volte su altre vertenze insomma i sindacati sono un po' criticati perché dicono c'è troppa parcializzazione c'è troppa divisione ci sono troppe sigle che a volte rappresentano tre dipendenti e basta quanto è importante appunto essere uniti nelle varie vertenze fondamentale noi come CGL cerchiamo sempre l'unità sindacale anche con le altre organizzazioni sindacali perché crediamo che ogni volta che riusciamo a trovare un'unità sindacale riusciamo sicuramente ad ottenere migliori risultati rispetto a quando andiamo da soli perché l'unità sindacale significa dire all'amministrazione si è compatti su questo argomento lo vogliono tutte le lavoratrici e lavoratori non c'è nessuno che non lo richiede perché siamo qua tutti quanti assieme a chiedervi questa cosa e questa delle politiche occupazionali veramente è una cosa che ci ha unito tutti perché non esiste un sindacato a Milano che dica che non serve personale al comune di Milano non esiste meno male mi viene da dire ma sarebbe un po' ma invece se puoi dimolo perché poi so che gli equilibri sindacali sono difficili su cosa che non vi trovate con altri sindacati invece ma ci sono nelle vertenze quelle non dovreste avere tutti lo stesso idea di voler bene fare il bene per i lavoratori ma guarda innanzitutto ti voglio dire che al comune di Milano l'80-90% delle volte troviamo un'unità sindacale quindi siamo un comune molto virtuoso da questo punto di vista dell'unità sindacale ci sono quelle capita ogni tanto che non si trova perché magari si ha dei punti di vista diversi rispetto alla risoluzione del problema per le lavoratrici e i lavoratori quindi è capitato in polizia locale che non abbiamo trovato l'unità sindacale nonostante tutte le organizzazioni sindacali ovviamente vogliono il bene delle lavoratrici e dei lavoratori capita in alcuni settori ma devo dire davvero non è un modo di dire la maggior parte delle vertenze le portiamo avanti in maniera unitaria Prima di chiudere la domanda che faccio sempre ai sindacalisti nel senso che il sindacato una parola che sembra arrivare cioè che arriva anzi arriva da molto lontano ma sembra rimasta un po' lontana per molti lavoratori o meglio per magari le generazioni più nuove che si affacciano al mondo del lavoro invece cos'è il sindacato nel 2024 cos'è il sindacato in questo nuovo secolo diciamo Il sindacato significa essere insieme alle lavoratrici e ai lavoratori nei posti di lavoro vivere insieme alle lavoratrici e ai lavoratori i loro problemi sentirli farli propri e portare la voce delle lavoratrici e ai lavoratori dei loro problemi alle istanze superiori quindi fare in modo di risolvere i problemi di tutte le lavoratrici e ai lavoratori che sono emersi stando insieme a loro cioè il sindacato non deve essere vissuto come un qualcosa di diverso dalle lavoratrici e ai lavoratori il sindacato sono le lavoratrici e ai lavoratori che decidono di mettersi in un'associazione e fare il sindacato quindi io se devo rispondere a questa domanda dico che il sindacato siamo noi siamo tutti quanti noi chiaro avete capito ecco no quindi almeno potete criticare almeno che si critichi con un po' di idea di cosa vuol dire essere appunto un sindacato oggi nel 2024 Giovanni grazie mille davvero grazie a voi grazie delle tue spiegazioni molto chiare e non so come si dice in questi casi in bocca al lupo come si dice per le vertenze auguri ma non c'è qualunque modo diciamo l'importante è che si arrivi alla definizione per il bene della lavoratrice e lavoratore del comune di Milano grazie mille allora Giovanni Molisse segretario funzione pubblica CGL Milano grazie ancora a sport saluti anche a tutti i lavoratori anche quelli non iscritti mi fa questo piacere ma certo noi come CGL rappresentiamo tutti iscritti e non iscritti ottimo grazie mille ancora Giovanni e andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo qui per chiudere questa puntata insieme di oggi venerdì 26 aprile non l'avevo ancora detto thanks god is a friday grazie mille